E invece noi dobbiamo puntare a dare occasione a questi giovani che il lavoro lo vogliono, lo cercano e purtroppo non lo trovano. Sì, se le chiedo ancora un minuto perché voglio andare da Candiani perché mi pare che Elsa Fornero sia la nemica giurata della Lega, no? No, probabilmente non si è ancora reso a conto dei disastri degli italiani. Non io, sono loro, sono loro. Io non ho niente con la dottoressa Fornero che per l'amor di Dio resti a Torino in cattedra all'università, però mi fa sempre un po' specie vedere, lei è quello che rappresenta la sua stagione politica, dare lezioni ai più giovani. Tenuto conto che li ha tenuti fuori dal mondo del lavoro poi perché in effetti con la sua riforma ha fatto il contrario. Questo è l'Italia, questi sono i paradossi. Guardi, io sono stata al governo un anno e mezzo, la Lega è stata al governo molto di più. No, purtroppo stiamo pagando i danni di quel ventennio perso in cui la Lega è stata lì. Guardi, non ne voglio ricordare quella lacrimosa immagine con cui ha scioccato gli italiani, che ancora oggi si ricordano invece quelli che hanno perso, gli anni versati di contributi, tutti i disastri fatti con le pensioni. Questo le appartiene, faccia una cortesia, si chiude in un eremo e finisca lì.